L'obiettivo della presentazione di oggi, dell'introduzione che facciamo, è come integrare Cisco Spark all'interno dei processi di business, processi di business che hanno un ulteriore valore aggiunto dal fatto che stiamo utilizzando un'informazione estremamente preziosa, l'informazione di localizzazione. In particolare con ESRI la science aware, cioè il valore dell'informazione dove sono oggetti o dove possono essere problemi o altro. Nera Tech infine ci darà un esempio di come tutto questo può essere riunito, quindi science aware, collaboration, Spark APIs all'interno di un unico processo produttivo che va a risolvere un particolare problema. Per quale motivo Spark e l'API sono importanti? Per noi, per voi? Perché a tutti gli effetti come Cisco stiamo mettendo in piedi una catena di soluzioni di problemi che a tutti gli effetti è end to end. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo in grado di partire dalla digitalizzazione dei sensori, in altre parole raccogliere informazioni contestuali relative all'ambiente che ci circonda, alla trasferimento di queste informazioni in maniera efficace, quindi digitalizzare la temperatura, l'umidità, il funzionamento di una pompa elettrica o altri tipi di informazione, trasportarli in maniera sicura ed elaborarli. Quindi significa trasformare un dato grezzo, un dato non simbolico, in una soluzione di un problema. Per quale motivo? Perché esistono persone ovviamente che sono disposte a pagare per un problema risolto. In questo flusso end to end ci sono tre elementi chiave, chiaramente la parte dei sensori, chiaramente la parte di clienti che sono interessati ad avere un problema risolto, ma soprattutto voi, i developers, quindi coloro che sono in grado di effettuare questa trasformazione, da dato grezzo a valore, a risoluzione di problema. Vi do tre esempi di cui uno poi parleremo oggi, di proof of concept, iniziative commerciali che abbiamo fatto. La geolocalizzazione di asset, in particolare quello che vedrete fa poco, anche in termini di come è stato sviluppato, come integrare l'analisi di un video geolocalizzata all'interno di un processo di business. Quindi identificare degli asset, in questo caso utilizzando un drone, riconoscere questi asset e fornire l'informazione relativa a come devono essere utilizzati all'interno di una Spark Room, quindi l'informazione generata dal drone viene fruita dalle persone che devono risolvere quel particolare problema all'interno di una Spark Room. Discorso simile su verticale diverso, in questo caso è una soluzione di videosorveglianza estesa, in particolare anche qui utilizzando droni. Perché droni? Perché ci permettono di trasportare i sensori in maniera molto più economica ed efficace di altre tipologie appunto di trasporto. Quindi droni che portano un sensore, in questo caso video e termico, integrato all'interno della collaboration, quindi Spark e Webex. Webex e Spark che sono anche in grado di interagire, dialogare con il drone e soprattutto una elaborazione a valle sul dato grezzo, quindi sul video e sul termico, per identificare possibili thread, in questo caso malintenzionati che danneggiavano le reti. Ovviamente Spark in questo caso diventa ancora un sistema per permettere di avvisare, di allertare chi ha il problema che esiste e eventualmente come risolverlo, dandogli un'informazione importante, quella che si chiama la situational awareness, cosa sta succedendo e dove. Ultimo esempio, questo è tristemente necessario nelle città italiane, da quello che capisco, soprattutto anche in questa zona, la capacità di far volare sensori per esempio di qualità dell'aria. e ricavare in tempo reale ogni 15 secondi un'informazione relativa per esempio all'EPM10, quindi le famose particelle di polvere sottile che sono dannose. Per quale motivo questo? Perché posso avere un'informazione contestuale, in tempo reale e costante, che mi permette di capire meglio il problema. Integrata all'interno di Spark, sono anche in grado di integrare, di tirar dentro gli esperti che hanno la capacità di risolverlo. Quali sono le caratteristiche comuni di queste tre iniziative? Spark è l'abilitatore. L'informazione di localizzazione è un abilitatore chiave, è un'informazione fondamentale, perché non basta solo il come e quando, serve anche il dove, dove sta succedendo. E l'ultimo elemento chiave è la partnership, cioè l'intervento di developers, partners, che sono in grado di prendere queste due informazioni separate e trasformarle in una soluzione di problema. Quindi in questo caso Spark, visto come collante, che è in grado di unire tutte queste fasi all'interno di un circolo virtuoso di collaborazione in cui sviluppatori, problem solver, in cui clienti sono in grado di interoperare e di gestire le eccezioni. Parliamo di exception management in senso lato, perché qui si sta parlando appunto della capacità di indirizzare in maniera efficace e in tempo reale un problema. Quindi, da un punto di vista, diciamo, di business, cosa significa questo? Significa inserire tutti questi elementi in un'unica catena del valore, che poi può essere applicata a diversi verticali, come stavo mostrando prima, che non significa solo parlare di robot o droni, non significa parlare solo di sensori, non significa parlare solo di IoT o collaborazione, significa unire tutti questi elementi in un unico circolo virtuoso che permetta di risolvere e accelerare problemi di business, che permetta, alla fine, come dire, ad end of the day, che permetta di monetizzare le informazioni che sono oggi disponibili e che saranno sempre più disponibili con i sensori che abbiamo intorno a noi. Collaboration e IoT chiaramente sono dei key enabler, ma come dicevo prima, è essenziale che ci sia l'inventiva, perché nessun problema può essere risolto se non ci sta chi ci applica il cervello, chi trasforma i dati grezzi in soluzione e quelli siete voi. Ovviamente con l'abilitazione che noi siamo in grado di fornire come tecnologia, come trasporto, come competenze, noi e i partner, per esempio Esri. Grazie Angelo. Intanto mi presento, io sono Claudio Carboni, lavoro in Esri Italia come evangelist e nel Dipartimento di sviluppo business. Che dire, ci sarebbe da parlare per ore, però abbiamo pochissimo tempo e andiamo subito a vedere chi è la Esri. Quanti di voi conoscono già la Esri? Qualcuno. Comunque la Esri è la più grande produttore al mondo di sistemi informativi geografici. da 40 anni ha questa prerogativa e la cosa più importante di questa azienda è che investe almeno il 30% del suo fatturato in ricerca e sviluppo. E parte da un concetto molto semplice. Dove si trova la digital geography? La digital geography in effetti è ovunque. Ovunque abbiamo informazioni che sono sul territorio e che vengono dal territorio. informazioni che sono caratterizzate da due attributi fondamentali il tempo e la posizione. Ed Esri non ha fatto nient'altro che utilizzare questi due elementi per trovare modo di parlare in forma di analisi spaziale. Quindi all'interno del suo offering Esri dà la possibilità di andare a misurare di andare a capire quali sono i luoghi migliori dove magari mettere nuove infrastrutture e così via. Questo cosa dà? La possibilità di creare sistemi che danno la possibilità di migliorare quindi di rendere migliori le decisioni di ottimizzare i processi e ovviamente risparmiando soprattutto condividendo le informazioni. Parlando di questa astrazione che ci porta anche a utilizzare all'interno di tutti i sistemi le innovazioni e quindi parliamo di Big Data di dati in real time IoT che sono gestibili dai sistemi e dalle tecnologie di Esri. Come diceva Angelo i campi di applicazione sono limitati solo dalla fantasia. In Italia sono migliaia le organizzazioni che utilizzano i nostri prodotti da chi gestisce le reti tecnologiche a chi deve fare analisi ambientali da chi deve fare progettazione e valutazione di impatti ambientali e così via. Ma qual è in poche parole l'offering di Esri? L'offering di Esri è una piattaforma di nome Argis e si tratta di un sistema che consente di andare ad operare e gestire e analizzare le informazioni che vengono dal territorio dalle posazioni. Questa piattaforma è disponibile in due modalità vi suggerisco di andare a vederla in www.argis.com ed è la modalità online è basata sull'infrastruttura di Amazon e come vedete dai numeri gli utenti sono tantissimi immaginatelo come un social network delle mappe e non una sorta di YouTube delle mappe è un'architettura estremamente scalabile come dicevo prima è in cloud oppure l'azienda si può installare in casa o in un proprio cloud la soluzione enterprise oppure in caso di necessità le due possono essere collegate tra di loro ma non è solamente una piattaforma di tecnologie pronte all'uso in realtà Argis è una piattaforma di sviluppo all'interno di Argis ci sono le APIs per poter creare le applicazioni client in tutti i linguaggi dal Java al Qt al Python e così via estendere le funzionalità della piattaforma e integrare la piattaforma con gli altri sistemi all'interno delle organizzazioni quindi non è un elemento chiuso ma è basato su standard e in grado di poter dialogare con tutti gli elementi delle organizzazioni la filosofia della piattaforma è prendiamo i dati da qualsiasi fonte di qualsiasi genere le integriamo all'interno di un sistema e attraverso lo sviluppo di app oppure l'uso di app già disponibili andiamo a verticalizzare questo prodotto per dare ovviamente risposta alle esigenze di ogni singolo mercato ci sarebbe da parlare molto la cosa che vorrei fare è solamente incuriosirvi e quindi vi consiglio visto che parliamo di un evento per developer di andare in questo sito che è per developer nel quale troverete moltissime fonti e idee per poter sperimentare questa tecnologia quello che vedete a destra lo potete cercare su youtube è un video di un'oretta circa che illustra le potenzialità per gli sviluppatori quindi vi delego ad andare successivamente all'interno ci sono dei dev labs quindi dei laboratori in cui con cui anche qui imparare a sviluppare le applicazioni le app i client e oltre a a queste questo sito per sviluppatori ci sono altre risorse all'interno del sito di Esdri che possono aumentare i valori dei propri curriculum ovviamente stiamo parlando di business ma stiamo parlando anche di ricerca lavoro parliamo di job e avere una certificazione in tecnologie così diffuse non fa che aumentare la possibilità che il lavoro venga trovato quindi voi avete un'idea il tempo nella realizzazione di quello che noi vogliamo sia o possa essere importante è sempre un elemento critico e selezionare scusatemi ma so no in questa slide vi sto facendo vedere solo una modalità per avere accesso in maniera estremamente semplice la tecnologia potete andare sul sito e vedere Argist for Personal Use dicevo per riassumere voi avete un'idea il tempo è critico quindi perché partire da zero abbiamo già tutta una serie di componenti che ci permettono di arrivare al risultato finale quindi alla realizzazione di quello che è l'oggetto della nostra idea in maniera estremamente rapida e questo più veloce di quanto uno possa immaginare ma non è solo tecnologia qui stiamo parlando di elementi che possiamo aggiungere al nostro curriculum ma se abbiamo un'idea ancora più sfidante che è quella di mettere in piedi un'azienda o creare un nuovo business non sarà sufficiente la tecnologia ma possiamo andare perché noi io Esri Cisco e altri operatori partecipano in questo acceleratore che si chiama Geosmart Campus un acceleratore tematico è il primo in Italia che si occupa di digital geography e Geosmart Campus oltre alle tecnologie offre tutta quella serie di servizi professionali che possono aiutare a chi deve mettere in piedi un'impresa che vanno dalla strategia di business vanno all'internazionalizzazione alla ricerca di partner o investors e così via due cose importanti di Geosmart Campus è la prima è che la piattaforma diciamo ha un sistema di job recruitment estremamente efficace su professioni innovative la seconda è che alla fine del mese partirà un challenge su GIS for Internet of Things quindi tenete d'occhio questo portale grazie ora passiamo alla parte diciamo più coding quindi Eric buon pomeriggio a tutti mi sentite? sì ok grazie a Cisco grazie ad Esri sono qui teoricamente in maniera per seguire il piano di lavoro a presentare velocissimamente delle slide a modo di presentazione della demo che poi verosimilmente non riesco a far vedere in questo contesto perché ho dei problemi sulla macchina virtuale quindi vi esorto poi un attimino magari a seguirmi dopo per chi fosse interessato cercherò di esprimerla in maniera statica quindi con le snapshot mediante le presentazioni e cercando di far capire lo spirito con il quale la demo era stata presentata eventualmente per il rotto della cuffia cerchiamo di prendere uno schermo un computer che ha la parte almeno di interface per farvi capire qual era lo spirito di questo POC chi sono io velocissimamente Erik Tiengo CEO di Neratec e mentore di una nuova startup legata al GIS quindi per me il GIS è la vita oltre che il business questa velocissimamente è la mia timeline history quindi da subito una volta rientrato in Italia dopo i miei studi all'estero devoto alla parte GIS ci sono state delle evoluzioni che hanno portato a creare delle società che sono ancora in essere altre che hanno avuto un corso un ciclo di apertura e di richiusura per poi di rinascita fino a creare ulteriormente a modi matriosca ulteriori 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 opportunità questa velocissimamente è la la lista della spesa quindi l'ordine del giorno della presentazione cercherò di non annoiarvi e soprattutto di far capire quello che era l'obiettivo della demo sinergie Cisco per la parte di Unified Collaboration Esri come fornitore di tutto quello che il GIS necessita a livello di servizi a livello di dati e Neratec ovviamente quella che in questo caso ha accolto l'opportunità e ha cercato di unire entrambe le tecnologie Cisco la possiamo come dico come ho detto precedentemente associare al discorso di collaborazione e comunicazione unificata tramite API Spark che sempre più stanno convergendo o meglio prodotti che prima Cisco aveva a catalogo in maniera leggermente separata anche se aveva delle confluence delle overlap tra di loro ad oggi sembra che tutto possa convergere su Spark e quando intendo tutto per quanto riguarda il mio caso d'uso intendo quello che è streaming sia di meta informazione quindi per me è XY e video a corollario ESRI come dicevo prima è tutto quello che mi consente la piattaforma che mi consente sia lato desktop che lato server di posizionare tutta la meta informazione che i flussi che i vari flussi i vari device che andiamo a mettere in connettività ci regalano il wall flow quindi fate uno sforzo di immaginazione so che le slide sono noiose però facciamo finta spero di ingolosirvi un attimino i device selezionati per questa demo erano fondamentalmente la camera a bordo del portatile una camera faccio nomi e cognomi perché tanto comunque sono lì visibili quindi una Raspberry una Raspberry versione 3 e poi grazie al DJI Mavic avevamo il terzo caso d'uso il terzo device data pusher che avrebbe fornito a sua volta uno streaming streaming e target della demo era riconoscere un quarkode quarkode che ovviamente il gioco forza avevamo già preconfezionato quindi era vincere facile tendenzialmente riconoscerli poteva essere anche un escamotage e delle cose scritte arcoded nel codice però abbiamo provato prima a prendere il quarkode che viene offerto da codemotion e l'abbiamo letto tranquillamente per chi non lo sapesse c'è un link che rimanda a qualcosa che non ho aperto e ovviamente tutto quello che il quarkode contiene tendenzialmente per i nostri casi d'uso cerchiamo di condensarli in un identificatore univoco che possa avere significato con la banca dati del cliente in modo da non avere problemi di privacy non avere insomma avere una summary avere una sorta di sintesi di quello che per il cliente ha un valore aggiunto e poi dipende un attimino questo parlo come nera che se il cliente ha bisogno o necessità anche di consulenza post processamento o una volta ottenuto questi ID cosa farsene ecco che il flow si concluderebbe in maniera chiamiamola standard posizionandosi su una mappa visto che tutti questi device tolto la prima parte quella della camera era privo di GPS potrebbero avere dei GPS a bordo e quindi trasmettere dei segnali con un canale parallelo di metainformazione spaziale quindi pronti via di sicuro questa informazione collocarla su una mappa e ripeto ID letto dal codice e mappa possono fare database base qui mi viene da piangere comunque questo era lo scenario della demo quindi una virtual machine basata su windows 10 ID è utilizzato a un viso studio 2015 il progetto originale cioè quello che Neratec e GsApp comunque utilizza sempre per fare prototizzazione è basato in maniera nativa su opencv e come linguaggio di alto livello nonostante venga confuso molto spesso solo come linguaggio di scripting è python il challenge era quello di poterlo portare poterlo sdoganare come diciamo noi anche in ambienti più friendly per me non necessariamente Microsoft è friendly però diciamo che a livello statistico potrebbe essere interessante anche poterlo sfruttare in ambiente Microsoft e soprattutto strizzare l'occhio alla suite desktop di Esri in modo da avere nel proprio paniere questa meta informazione in live in versione live l'architettura x86 per varie problematiche progetti utilizzati quindi a questo punto abbiamo fatto una cernita di quello che era disponibile nel mondo open source e il wrapper migliore che abbiamo trovato per opencv è ricaduto su MGU per la parte open source ovviamente poi tutti sono liberi di andare a vedere la parte matriciale di licensing e quindi se si vuole scalare sulla possibilità di usare GPU piuttosto che scalare su delle mobile SDK a quel punto la licensing diventa commerciale e diventa il classico costo beneficio e quindi uno scenario di fattibilità che uno deve valutare .sparknet è trovato su GitHub offerto e ricensito anche dal portale di Cisco Spark non è ufficialmente riconosciuto cioè non è pardon non è ufficialmente riconosciuto ma nel canale di la community da parte di Cisco Spark è fatto molto bene molto semplice e molto utilizzabile in questo caso il nostro valore aggiunto era un attimino fare un porting verso la versione 4.5 in quanto quella nativa dello sviluppo originale che si può vedere sulla GitHub è sviluppata per Netcore molto interessante perché Netcore da un anno e mezzo a questa parte ti dà la possibilità di portare la piattaforma net sulla parte Linux Docker perché non si può fare a meno dal mio punto di vista di Docker in quanto senza sporcare macchine si possono comunque creare servizi in maniera molto furba Computer Vision e Image Processing quindi anche in questo caso abbiamo diciamo due canali due flussi due approcci quello diciamo che della business unit che il cliente potrebbe vedere quindi una parte di acquisition con molteplici device abbiamo la parte di processing quindi tendenzialmente noi da un video lo spacchettiamo come il classico libricino in tante immagini e poi le ritorniamo qualora c'è necessità nuovamente ricompattate in un concetto di streaming video noi nel mentre ci infiliamo il discorso degli algoritmi che vuol dire tanto vuol dire poco vuol dire machine learning si apre tutto un mondo comunque il senso di queste slide era finalizzate per la poca quindi non tanto per fare discussioni in merito in ogni caso qui noi siamo pronti ad accettare e stiamo lavorando in modo da poter anche accettare algoritmi che non necessariamente scriviamo noi ma che possono essere offerti da terze parti tendenzialmente invece questo è lo sviluppo la parte bassa è il flow di sviluppo che facciamo noi internamente in GsApp quindi lavoriamo in parte desktop il dataset nuovo il cliente ce lo fornisce facciamo delle elaborazioni verifichiamo se nella banca dati degli algoritmi c'è qualcosa di riutilizzabile altrimenti costo beneficio se ne fa un altro concordato col cliente e va ad incrementare la banca dati ergo machine learning e benefici e dopodiché quando è maturo ritenuto maturo passa a offrire lato server viene offerto come as a service lato server accorgimenti in questo caso appunto ci siamo bisogna utilizzare le librerie o a 86 o a 64 bit in funzione di quello che si vuole fare quindi una minima accortezza quando si utilizza il MGU l'unpy purtroppo non c'è niente di equivalente in C Sharp bisognerebbe scalare su Iron Python e quindi fare un'applicazione o più che altro un'installazione di Iron Python come chiamiamolo virtualenv e in questo caso visto che il tempo a disposizione era comunque limitato abbiamo votato per un addon scritto in chiamiamolo vecchio stile quindi con una com assembly e però sicuramente se non fosse una poca c'è da sviluppare per Esri la consiglio vivamente di andare sulla parte di runtime SDK che si stanno sempre più popolando di feature e per QT quindi stiamo parlando di C Plus Plus o Java streaming in questo caso c'è un podio ovviamente non 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 c'è tantissimo da dire perché non poi non si può vedere però di sicuro la camera è quella che attualmente offre le performance migliori quindi col concetto di real-time è quello che più si avvicina quindi il gap tra real-time e real-time è molto minimo avevamo poi una trasmissione con con drone DJI e infine la raspberry utilizzata per la demo perché aveva ffmpeg direttamente a bordo della raspberry che ovviamente per quanto fruibile e facile da utilizzare è comunque limitata e quindi andando a metterci dell'algoritmo e a pesantire la cpu questa cosa poi si risente questo è un concetto sempre grafico quindi se vogliamo diminuire la forbice ovviamente entrano in gioco fattori come quelli che ho indicati probabilmente ce ne sono molti di più ma questi erano quelli che mi sentivo di portare all'attenzione o perlomeno è quello che abbiamo sempre valutato nei nostri casi d'uso on-site quindi la banda la banda a un prezzo quindi se si vuole andare diciamo non avendo problemi di banda e quindi di costo poi questo non è mai facile perché il cliente a quel punto non è detto che sia disposto a farla minimizzare la banda vuol dire portare l'algoritmo a bordo del singolo device questo però per fattori di forma costi e tante altre cose non necessariamente può supportare degli algoritmi interessanti e quindi bisogna trovare sempre dei compromessi quello che avrei voluto farvi vedere era che all'arrivo del QR code all'individuazione del QR code su ogni singolo canale partiva un messaggio lato Cisco Spark e quindi in una room che avevamo creato ad hoc con alcune persone alcuni account ricevevano il messaggio con anche il QR code individuato lato Python avevamo fatto uno script che era in classica pub sub quindi era un client di subscription e riceveva tutto quello che veniva serializzato lato individuazione del QR code e al pari del client Python l'arm app a sua volta si era messo in ascolto quindi sullo stesso canale riceveva lo stesso pacchetto di informazioni teoricamente non per il POC arrivano già qualora ci sia il GPS anche le informazioni già XY di coordinata di mappa e quindi il connubio tra quello che viene individuato nel QR code quello che esprime il QR code e le sue coordinate non è tanto questa finestra sinistra che era il caso del POC ma più che altro è più verosimile a quell'altro di destra tutti i punti sul singolo QR code andavano a migliorare la qualità e la precisione della posizione GPS questo è l'estrima sintesi ma più che altro per dare il concetto di scalabilità quindi sulla destra la rappresentazione della nostra app Redis di mezzo come come database memory database key value altri un python e arm up in ascolto sullo stesso canale e a quel punto si vedeva si vedeva assolutamente quello che si voleva far vedere il concetto di scalabilità è che a quel punto si possono attaccare qualsiasi client che possono che sanno subscrivere un canale qui era il nostro uno dei casi d'uso che va per la maggiore quindi avevamo la macchinina le vedete lì purtroppo sul tavolo anteposte sul tetto sul roof della macchina viene posizionato il QR code e il volo del drone avrebbe captato il QR code inviando e innescando quindi tutto quel workflow che vi ho appena indicato messaggio di notifica contenente codice del QR code coordinate relative coordinate assolute quelle relative sono dove ho trovato dove è il centroide chiamiamolo così del QR code localizzazione dal punto quindi se arriva sulla mappa e ovviamente se c'è un concetto di storage che può essere abilitato si può fare dell'history e quindi comunque andare a valorizzare e popolare una banca dati questo adesso lo tralascio perché è più un discorso del business che si può montare a bordo di un drone che riconosce dei QR code e cosa chiudo con cosa stiamo comunque combinando quindi integrazioni mobile per la parte DJI e non solo per la parte server side ottimizzare sempre di più il concetto di consistenza performance scalabilità in un concetto hybrid cloud per la parte ESRI invece due note quella di passare assolutamente sulla parte linux che sia Qt o che sia Java poi il linguaggio da utilizzare mentre interessanti sono il prodotto di full motion per la parte client server e image server per la parte server sempre offerti da ESRI qui era purtroppo il demo time questa è la sintesi post demo di tutto quello che è stato utilizzato e basta quindi di fatto computer vision e image processing con in salsa GIS unified collaboration e soprattutto buona banda perché altrimenti questi flussi di informazione non difficilmente arrivano a destinazione grazie per l'attenzione a per fare l'attenzione a v